Il settantesimo della CNA finisce oggi con questa presentazione e premiazione del contest fotografico. Che cosa significa questa iniziativa? Abbiamo voluto ultimare le celebrazioni dei 70 anni di nascita della CNA con questa iniziativa di fotografie del tempo. 70 anni di artigianato, racchiuse un po' di fotografie. C'è stata una selezione, non hanno partecipato tantissimi fotografi, c'è stata una selezione. Oggi c'è la premiazione e che serve a celebrare un po' questa nostra ricorrenza di 70 anni di vita guardando i 70 anni futuri.